Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicale e benvenuti nel mio nuovo video. Come avrete già letto dal titolo appunto qua giù, oggi eccoci qua per parlare di... esattamente, Sailor Moon Crystal Act 6, come può anche appunto illuminarci il titolo qua del capitolo del manga. Allora, con questo act e con questo capitolo andiamo a concludere quello che è il primo volume della nuova edizione, ultima uscita in Italia, di Sailor Moon. È un act molto particolare, molto importante per molti aspetti ed è la verità, non ho gran che da dire. Ricordo questo episodio a parte il fatto che è stato fantastico, meraviglioso. Il più bel act è andato in onda fino adesso, sotto ogni punto di vista, sia come disegni ma anche appunto come storia, perché come già ho detto è un capitolo importante per la storia che arriverà appunto prossimamente. Andiamo nel dettaglio. Se avete visto l'episodio e siete stati particolarmente attenti, sicuramente avrete notato alcune migliorie all'interno dei disegni della sigla, oltre ovviamente a quelli dell'episodio, l'episodio di per sé. Io vi parlo della sigla, infatti ci sono state alcune modifiche, alcune graditissime modifiche che hanno portato a migliorare il disegno, il tratto, l'ombreggiatura, nonché finalmente Queen Serenity è tornata al suo colore naturale, ha deciso di togliersi la tinta bionda e di tornare ai suoi naturali capelli color argento come appunto anche gli occhi, si è tolta anche le lenti a contatto. Furbacchiona, si era messa anche le lenti a contatto. A parte queste stupidate, sul serio, sono davvero molto contenta che abbiano rifatto la figura di Queen Serenity nella sigla e averla riportata a quello che è il suo colore naturale e originario del manga. Vi lascio qua un'immagine per qualche secondo, dove potete notare le varie differenze, appunto le varie migliorie, che ci sono state nella opening rispetto appunto a quella che è andata in onda fino al quinto act. Ora, a parte questo, andiamo un attimo nel dettaglio nell'episodio vero e proprio. La storia inizia a staccarsi da quella che, diciamo, era la più conosciuta dell'anime degli anni 90. Infatti qua vediamo una parte di storia inedita che nell'anime degli anni 90 non c'era ed è il momento in cui, appunto, Usagi scopre la vera identità di Tuxedo Kamen. Sì, avviene anche nell'anime degli anni 90, ma avviene in una maniera del tutto diversa. Proprio la storia è totalmente cambiata in quel punto. Qua, appunto, la storia si rifà al 99% a quella del manga, perché ci sono alcune minime differenze, ma non pesano assolutamente, anzi, sono proprio cose minime, minime, minime. Proprio, per il resto, è identico a quello che è l'act disegnato da Nokotoki Uchi all'interno del manga. Cosa accade all'interno di questo episodio? Semplicemente vediamo un Tuxedo Kamen, appunto, un Mamoru Chiba, che inizialmente si sveglia per colpa di un sogno. Nel suo sogno, come sappiamo, vede una ragazza, una ragazza che continua a dirgli di cercare il cristallo d'argento illusorio e lui, pur di trovarlo, perché, come sappiamo, ha perso la memoria e quindi il cristallo d'argento illusorio gli servirà per riuscire a recuperare quella memoria che ha perso, farà un annuncio televisivo in cui annuncia che è la ricerca, appunto, del cristallo. Questo, oltre che sospettire maggiormente Luna, che già aveva molti sospetti su di lui, farà in modo di iniziare una specie di, fra virgolette, chiamiamola sfida, una battaglia, una guerra all'ultima ricerca fra lui, le guerriere e il Dark Kingdom. E non per questo, appunto, Queen Beryl, sentendosi minacciata da questo annuncio della ricerca del cristallo d'argento illusorio da parte di Tuxedo Kamen, decide di inviare i suoi sottintendenti a 10 tenni per, appunto, andare alla ricerca anche loro del cristallo d'argento illusorio e come lo faranno? Ipotizzando gli esseri umani. Quindi ogni persona che sta guardando un programma alla TV dove Zoe Sitte stava ipnotizzando le persone si metterà alla ricerca del cristallo ovunque, in qualsiasi luogo della città, delle case, eccetera, eccetera. In questo episodio, per di più, vedremo per la prima volta in maniera più completa la base segreta sotto il Game Center bellissima, fatta davvero molto bene rende molto questa, non so, questa atmosfera futuristica a me davvero molto piaciuta e vedremo anche per la prima volta all'opera il Moonstick, appunto, lo scettro con la Luna che Luna dà ad Usagi in quanto momentaneamente leader delle guerrieri Sylor Qua, appunto, anche Luna inizierà a spiegare un po' la sua missione alle ragazze dicendogli, appunto, che è sulla Terra per cercare la principessa la Moon Princess e il cristallo d'argento in quanto sono da proteggere in questo caso, però, abbiamo anche una Luna come ho detto, molto sospettosa rispetto a Taxidokamen nonostante tutto, però, Usagi sente che di lui si può fidare sente che comunque quel ragazzo è un ragazzo che ha sicuramente un qualche segreto ma che non arriverebbe mai a fare del male agli esseri umani o addirittura alle guerriere pur di raggiungere il suo obiettivo infatti qua inizieremo ad avere quello che è il vero rapporto più o meno fra Sailor Moon e Taxidokamen in quanto questo è l'episodio in cui scopriramo che lui già sa che Usagi è Sailor Moon e in cui lei, ovviamente, alla fine dell'episodio scoprirà in realtà chi è la figura dietro la maschera di Taxidokamen è un episodio davvero molto bello fatto davvero molto bene sotto ogni punto di vista mi è piaciuto penso, come già detto per il momento è l'episodio che mi è piaciuto di più addirittura sovrastato quello di Makoto Kino appunto di Sailor Jupiter perché già quello mi era piaciuto un sacco questo immaginatevi mi è piaciuto ancora di più mi ha fatto sorridere diciamo quei pochi secondi in cui è apparsa la figura di Sailor Venus insieme ad Artemis che ovviamente noi però rivedremo alla fine del prossimo episodio in quanto figura di Sailor Venus per avere appunto Sailor Venus di Persia realmente dovremmo aspettare non questo l'episodio l'episodio dopo però mi è piaciuto questo inserimento della figura di Sarah V come se le seguisse come se le monitorasse come se ora della fine nonostante sembra non lavori più alla ricerca del crimine abbia comunque seguito ogni movimento appunto ogni mossa ogni combattimento delle sue colleghe appunto delle sue compagne è stato davvero un bel episodio penso ve l'ho ripetuto un miliardo di volte ora sto aspettando con ansia il prossimo appunto Mamoru Chiba Taxi Dokamen in quanto appunto continueremo un po' a conoscere la figura di Mamoru appunto vedremo ci parlerà del suo passato si conoscerà un po' di più con Usagi e anche Usagi inizierà comunque a vedere effettivamente a capire che c'è una qualche un qualche filo che collega i due ragazzi l'uno all'altro già il fatto appunto che si incontrano sempre e il fatto che il destino voglia che lui sia Taxi Dokamen come sempre vi lascio qua sotto il link se volete andare a vedere l'episodio perché ancora non l'avete visto e come sempre vi invito appunto qua sotto con i commenti a discutere assieme di questo bellissimo episodio io sono davvero contenta che stia andando in onda questa serie non vedo l'ora di vedere il prossimo mi raccomando fatemi sapere anche voi che cosa vi è piaciuto magari anche che cosa non vi è piaciuto di questo episodio sia ben chiaro io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo fra due settimane appunto con i miei pareri sull'episodio e in generale al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.